Mi fa pensare al fatto che c'è stato un bel periodo in cui Fibra veniva elogiato tantissimo per i suoi ritornelli martellanti, per il fatto che riuscisse proprio a farti restare in testa quello che diceva. Danti mi pare che l'abbia detto, forse anche Darjean D'Amico, forse ancora altri, forse anche Marrakesh. In ogni caso qualcuno importante della scena l'aveva elogiato per la sua capacità di fare dei ritornelli martellanti, di trovare proprio quei spot quasi pubblicitari. E Tutti in Quarantena penso che possa essere anche un esempio di questo. Tutti in Quarantena, Tutti in Quarantena. Sì, è vero. Eh, sarà il fatto che ripete spesso i suoi ritornelli, più del dovuto anche. Forse questo. Un applauso per Fibra, mal di stomaco, bugiardo, quante volte lo ripete veramente. Forse la semplice ripetizione, forse il tono di voce con cui lo fa, forse la scelta delle parole. Una grinta con Kim, una buona scelta. Forse il carisma con cui semplicemente lo dice, è vero? In ogni caso, fin da subito, a me sembra... Sembra comunque mostrare un livello diverso dal freestyle medio. Poi, per carità, ognuno ha dato se stesso in tutti questi freestyle che... Mantene il suo stile. Esatto, esatto. Anche nell'emergenza è rimasto se stesso. Esatto, inizia con... Ah, non hai iniziato con... Mi raccomando, dovete stare a casa, lavarvi le mani, queste robe qui. Non hai iniziato dicendo grazie per la sfida, queste cazzate cose. Hai iniziato con... Ah, indovina chi è tornato? Il Guido Bertolaso, il rap italiano, tra l'altro. Metafora, o comunque nome, che ha già usato altre volte. Sicuramente l'ha già usato una volta nel freestyle. Forse è un altro freestyle. Forse è questo, forse è la sua frase, il suo intercalare durante il freestyle. Comunque, dopo continua con questi rapper. Finalmente hanno un nemico. Tutti a scrivere contro il coronavirus. Chiusi in casa, innoiati con i genitori, non uscire frate, c'ho le rime che mandano fuori. Questo è un discorso che avevamo fatto una volta insieme, non so se ti ricordi. Quando dice questi rapper finalmente hanno un nemico tutti a scrivere contro il coronavirus mentre sono chiusi in casa con i genitori. E non penso proprio che faccia riferimento a Amy Schilla, a J-AX, a Fred De Palma o a Shade. Non fa riferimento a loro. Forse è Jamil. Forse, ma penso che faccia per lo più riferimento a, già che dice questi rapper, proprio questi, proprio, c'è già del dispregiativo. Sì, sì, di bassa categoria, proprio gli ultimi, degli ultimi. Penso che faccia per lo più riferimento a tutti quelli che si improvvisano in questo momento rapper. Sì, più che altro tutti quelli che si sentono già di essere qualcuno quando in realtà appunto stanno ancora in casa con i genitori e fanno altro che dissare persone per la notorietà. Per esempio, mi viene in mente sai cosa in generale? Che comunque il coronavirus è un tema importante. E in generale Amy Schilla ha lanciato un'iniziativa ottima, quella dei freestyle, che è stata poi raccolta da altri nomi importanti, Fred De Palma, Shade, Ensi, chi altro? Sicuramente ne dimentico qualcuno. Salmo. Lazza, J-Ax, Clementino anche, ecco, e Fabri Fibra adesso per l'ultimo, ma... Quindi questa sfida è stata raccolta da questi nomi qui. Però abbiamo visto, ne abbiamo visti almeno un paio, io ne ho visti almeno un paio e penso che siano ancora molti di più le persone che si sono tirate in mezzo su questo tema come ti tiri in mezzo nell'ultima moda, giusto per prendere piuttosto che per dare, quindi per acchiappare due click, per mostrare un pochino, con quel solo intento. E quindi non penso che siano i nomi che abbiamo appena citato. Diciamo che si sono autoinvitati. Esatto, quindi non i nomi che abbiamo appena citato che non ne hanno bisogno, semplicemente, ma altri nomi che appunto non si conoscono per una ragione o per l'altra, che però ci mettono un attimo a mettersi... Vogliono cavalcare l'onda, diciamo. Esattamente. Questo in più anche, dire, in più critica quella che è un classico anche del nemico immaginario, che appunto non dice finalmente hanno un nemico immaginario, perché in questo caso non è un nemico immaginario. Finalmente ce l'hanno quel nemico che hanno sempre... Quel nemico immaginario, esatto, quel nemico immaginario che hanno sempre quasi desiderato, che appunto è immaginario solo per quelli che si potrebbe dire di bassa lega o comunque che non hanno un grosso seguito. Sì, esatto, che neanche volendo hanno ancora i nemici. Non hanno veramente i nemici, per questo si possono definire nemici immaginari, e finalmente hanno almeno un vero nemico che appunto colpisce tutti, non solo i grandi, quelli che di successo, ma chiunque viene colpito dal coronavirus. Quindi in teoria chiunque è autorizzato ad essere arrabbiato contro il coronavirus, a scrivere contro il coronavirus, eccetera. Però lui critica, secondo me, quel tipo di personalità lì. Sì, assolutamente, i rapperini che fanno sempre solo canzoni di... Sì. Appunto dissando, persone che magari neanche se ne inculano. Qualcuno che vuole ottenere soltanto visibilità senza portare niente veramente, no? Sì, 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 assolutamente. E anche questa l'ultima rima, non uscire che c'ho le rime che mandano fuori, spezza. Esatto. È vero, quella è bella, quella è bella, assolutamente. Scusami che sono distratto perché volevo ancora dire, chiusi in casa, annoiati con i genitori, con i genitori, è la frase che convalida, secondo me, quello che stavo dicendo. Per farmi capire che sono ancora ai livelli da stare in casa con i genitori. Esatto. Sono persino annoiati perché non hanno dei veri problemi. Non sono delle persone magari che sono colpite economicamente dal virus, ma piuttosto dei... Sì, ragazzini, per più. È giusto che i ragazzini siano annoiati, per carità. Però, appunto, li rimette un pochino al loro posto, quelle persone che hanno provato a fare i grandi, di quando effettivamente per ora ancora non lo sono. Non uscire, frate, c'ho le rime che mandano fuori. Cosa mi dici tu di questo? No, questo è abbastanza facile. Mi è piaciuto avere... Fa ridere. Esatto. Cavalca sempre il tema del stare a casa, ma... Esatto, esatto. ...c'ho le rime che mandano fuori. Ma sì, è un po' bello perché dice... Non lo dice, no, ma implica il fatto che non c'è bisogno di uscire. Però, intanto, c'ho già... Basta che ti ascolti me, c'ho io le rime che ti mandano fuori anche senza uscire di casa. Questo è bello, dai. Mescolare un consiglio a quello che è lui di arroganza. Sempre le rime che ti mandano fuori come un balcone, eccetera. Ok, poi continuo. Quella frase mi è piaciuta tantissimo. È stata la mia frase preferita. Allora, prima ho capito bene che dice quanto fumo nella stanza, ma magari dice quanto... C'è proprio Ashish o quanto... Eh, in che senso? È il fumo, è il tocco di fumo. Tutte e due, sì, sì, sì. Sia il tocco di fumo che fumo poi... È il fumo vero e effettivo che esce dalle sigarette, eh. No, vabbè, sì. È caro che vuol dire che si sta ammazzando di canne a casa. Sicuramente, sicuramente. In studio come Dardas. Poi, aspetta, uno come me a cui piace farsi i viaggi, ma so che è soprattutto un viaggio perché la frase va già benissimo così, però in più si può considerare la stanza come Italia. E, sai, appena finito con l'altra storia, è fumo come l'idea di tutto fumo, niente arrosto. In questo tipo di situazione, quanto fumo che poi può uscire fuori, ma che è solo fumo, non è nient'altro, non c'è arrosto. Ma... Sì, 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 va bene, va bene. Vorrà dire il fumo. Lascia. Esatto, esatto. Vuol dire quello, vuol dire quello. E sta in studio come il produttore Dardas, ok? Sì, ci può fare aggiungere. Forse c'era un pochino di pubblicità qua, verso Dardas, perché ho visto che anche lui adesso è in Sony. Chi lo sa, forse è la sua base. Forse è la sua base. Forse addirittura ha prodotto lui, può darsi. Però non lo sa, questo non lo so. Questo non è stato citato. Comunque, sì, Dardas è questo produttore. Poi non so se ne vogliamo parlare nel dettaglio o quanto, ma tengo la scena sempre a un metro di distanza, ho fatto mille featuring in giro, che casino, noi abbiamo già visto che... È stato citato da Jamil. È stato citato come un'incoerenza. Però in realtà, cioè, qualcosa non è che non ha per niente ragione, no, non è che è stupido così a prescindere. Ma o è un pochino ingenuo, oppure semplicemente ha gettato un giudizio molto molto veloce e secondo me ha sbagliato, perché non è che ogni parola che prendi tu la interpreti al 100% col suo valore letterale. A parte che non puoi fare mai così, ancora di più con un freestyle, prima col rap e ancora di più con il freestyle. Però si può capire che può essere vista come un'incoerenza. E anch'io a volte mi sono già chiesto questa roba qui e una volta ne abbiamo parlato insieme. Il discorso di tutti questi rapper che criticano la scena mi è sempre sembrato andare in disaccordo con tutti questi rapper che fanno featuring. Anche a me mi ha fatto questo, sempre. E poi una volta mi era venuto in mente che forse la scena è semplicemente la miria dei milioni, forse no, adesso magari milioni no, ma le migliaia e migliaia e migliaia di persone che ci provano a fare il rap, che fanno un concerto nella loro vita, che scrivono canzoni, che pubblicano su YouTube. Tutto questo movimento qui, tutti i commenti, eccetera. Questa è come scena. E poi, che poi invece un numero ristretto tra cui si fanno featuring a vicenda, eccetera. Quella non è tutta la scena. Quella è una parte della scena, se vuoi l'elite della scena, comunque, sì, l'elite forse è il termine migliore, ma è una piccolissima parte della scena. E mi schilla, Maragash, Quepe Kenio, Fabri Fibra, eccetera, eccetera. I dieci nomi più importanti, i venti nomi più importanti. Quindi quelli sono i mille featuring che ha fatto durante tutta la sua carriera e che ha visto andare e passare via tutte le persone che comunque sono state al top o che erano al suo livello ogni volta, ma il resto della scena, quella maggioranza, quella maggior parte, a quella comunque tiene un metro di distanza in ogni caso. Questo è il mio ragionamento del perché ha senso questa frase, sì. Questa frase così. Non so cosa ne pensi. Una volta mi ricordo che ne avevamo parlato quando abbiamo analizzato la canzone nella scena. Sì, in realtà vedo che quando dice tengo sempre un metro di distanza è anche un gioco di parole. C'è proprio quanto riguarda il coronavirus. Sì, sì. Sarebbe la distanza da mantenere per non essere infettati. quindi magari dice anche lui dalla scena stessa nel senso da quel top di persone da cui non vuole essere infettato con il loro rap, con il loro stile. Sì. Ma allo stesso tempo il featuring che ha fatto non è che dice appunto che è casino. quindi forse si pente anche un po'. Quindi forse si pente anche un po'. Ho capito la critica che mi farete perché c'è questa critica tipo quando esce però il tuo disco. Implicità in mezzo c'è la frase sì, ho capito che invece di fare i featuring potevo fare il mio disco. Di fatto la gente aspetta più il mio disco che il vaccino ma è consapevole che anche così... Non risponde neanche ma non risponde neanche lui a quella crisi dice solo è un casino cosa ci posso fare. La gente aspetta più il mio disco che il vaccino comunque è frase frase migliore di tutto il freestyle direi. E a me mi trova d'accordo quindi aspetto veramente il cazzo di disco. Allora, non ha spezzato proprio questo freestyle. Sì, a me ha fatto ridere che è lui, no? Cioè, proprio Fabri Fibra che ha scritto un freestyle su un tema del momento. È esattamente questo. Sì, secondo me ha fatto più che bene a non prenderla in maniera così... Bravo. Anche questo volevo dire a proposito del primo. Non poco sul serio ma senza dargli questo peso di non potersela prendere veramente e non poter esporsi a modo suo. Tutto satira, sì, sì. Non si è trattenuto, diciamo. Sì, sì, sì. Non è stato politicamente non è stato politicamente corretto per niente. Però è il suo stile è sempre stato così e quindi non c'è da meravigliarsi. Non è dall'agio al domani che è diventato così o solo per queste situazioni. Perché uno pensa di smi che questo vuole interessare. Anzi, sarebbe stato forse più incoerente se in questo caso l'avesse fatto contro voglia. Poi io, per carità, se per una qualche ragione lui avrebbe dovuto, si sarebbe sentito così, benvenga, no? Che sia se stesso. Però, alla fine, questa è la sua cifra stilistica. Questo è il suo modo di essere semplicemente irriverente. questo è, questo vibra da sempre e cazzo, volevo dire ancora qualcosa. È da quando ho cominciato che sono in quarantena. È quando ho cominciato col rap, direi. Chiaro, che sono in quarantena perché effettivamente uno dei dissing di vacca cosa è che gli dice? Che sempre da solo. Non si vedeva in giro. Non si vedeva in giro. Sempre chiuso in casa. Che poi lui gli risponde a tono anche. Bello allenato, insomma, perché lui sa stare da solo. Esatto. Gli sa stare da solo e gli piace più che altro stare da solo in casa. Esatto, esatto. Anche se anche la fama gli piace, ovviamente. Però non sono sicuro che abbia mai detto che la fama gli piace quanto il successo o comunque il benessere anche finanziario. Questo sì, ma forse la fama non mi ricordo. C'era una una canzone in cui dicevo una cosa così ma non mi ricordo adesso se non sbaglio era in bugiardo. Ok. Se tornassi indietro rifarei lo stesso. Questo sì, assolutamente. Questo mi ricordo. Comunque sì. Sì, beh, dagli torto, sì. Giusto. Però gli piace anche stare da solo in casa. Stare a casa sua in quarantena, diciamo. Trovo sempre un esaltato che per una foto sclera direi che spiega perché gli piace stare a casa. Perché non importa dove va One Night Club è l'ok. Non è il tipo da ok, lui apprezza di brutto i suoi fan e secondo me lo trasmette a modo suo quindi con le canzoni e con i live così però non è il tipo da facciamo un selfie o così. Anche noi che l'abbiamo seguito parecchio una volta si è riuscita a fare una foto con lui è stento. È vero, è vero. Proprio così. manco un sorriso però è lui così. Però questo forse l'ha reso anche più importante un ricordo ancora un pochino più importante perché per noi dici sì, 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 sì. Perché comunque ti rendi conto che lui sta facendo qualcosa che un po' gli pesa fare però lo fa. Lo fa lo stesso è vero, è vero. Lo fa comunque. Buono. Più come senso del dovere a volte non è che tutti dobbiamo per forza aver voglia di stare in compagnia con le persone. In realtà se non hai voglia alla fine è meglio anche essere trasparenti su questo piuttosto che far finta che poi dai un'immagine. Trova sempre un esaltato che per una fotosfera che cazzo gli dici. Poi questi che parlano a caso tipo se a fine carriera farà riferimento a qualcuno forse i classici commenti sempre questi direi commenti. Adesso già Mil che dice che a 50 anni parla ancora ma che cazzo vuol dire l'età. Però allora sarebbe profetico perché gli ha detto dopo. Sapeva già ma sicuro forse gli ha detto già in privato no ma anche tramite altre storie so che già è un suo stile proprio non solo lui ci sono tanti altri. Forse per questo se l'è preso perché era un mezzo di singolatissimo appunto lo chiama persino questi no? Se per caso è così in ogni caso dopo gliel'ha detto ai 50 anni l'ha proprio criticato su questo punto ma io quando l'ho let quando l'ho sentito onestamente ho pensato piuttosto ai commenti no a me sembra che tutti quelli che hanno seguito dall'inizio Fibra per ora siano ancora dalla sua parte più che altro l'ho sentito un po' più abbandonato nei listi come Bugiardo o altri che erano un pochino meno contro cultura che erano un pochino leggermente più commerciali beh dai andiamo avanti su questo che poi se no si apre un giorno si quanti neri mando a casa tipo la guardia costiera gioco di parole quanti neri mando a casa quanti neri mando a casa capito la guardia costiera ho capito questo perché dice quanti neri mando a casa che la guardia costiera è quella che Lampedusa manda a casa si si io ho pensato fosse soltanto tipo quanti rimando a casa che va già che viene così capito infatti l'ho sottolineato cazzo aspetta questo tipo di battute ci vuole un po' per farmi ridere però mi fa ridere ah va bene sei sicuro che sia voluta oh io ho capito così al primo ascolto quindi penso beh questa è più che il riverente classico suo pure poi non penso che sia molto lontano dal razzismo di base no 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 ma lui voleva dire che neri rimando a casa ma come la guardia costiera che manda neri a casa ok quindi sì la critica ok la critica ci sta ci sta a me fa ridere per carità poi per dire che non per dire che non ucciderebbe perché se no è un discorso a parte non so chi sia fallo anche tu ma dopo buttati di sotto però sarà uno di quei rapper sarà uno di quelli o in generale un tu generico perché non è mai stato un tipo proprio amante della vita nella sua filosofia piuttosto nichilista ah qua mi sembra più che ce l'abbia con qualcuno proprio forse sì forse sì però non è così esplicitato a parte appunto le 18 forse Fedez che tra gli altri lo fa ma lo fanno un pochino un po' tutti in Italia mi sembra di capire questa roba lo fanno in tanti opposto e buttati di sotto insomma va comunque nella direzione del 100 modi per morire oppure sai ammazza ci sta ci sta scusate l'arroganza appunto mettere le mani avanti sia per prima che per dopo in generale anche sai perché leggenda sulla traccia secondo me cioè questo l'ho pensato proprio in tutti i primi giorni in cui non stava rispondendo lui al a questo freestyle non ce lo stava proprio ignorando anzi tutto il coronavirus lo stai ignorando bellamente è entrato in gioco è sceso in campo soltanto quando l'ha chiamato o l'ha taggato in J-AX comunque è difficile non prendere un invito da J-AX sì beh immagino si sia sentito anche ovviamente sì sì onorato a riguardo non lo so onorato non lo so però sì non è che se la sfida gliela avesse mandata non so un Jamil penso che lo avrebbe citato sì ma anche stiamo citando un po' troppo cose sì no tu lo stai citando un po' troppo non so se gliela avesse mandata ecco un altro rapper chiunque forse si sarebbe sentito un po' più tranquillo nello schippare semplicemente Marrakesh ad oggi non ha ancora risposto e non è che proprio per forza deve essere criticato uno può scegliere se rispondere o no secondo me di base non voleva rispondere forse proprio perché sapeva che la sua canzone sarebbe stata così ha pensato no non mi va di fare una canzone nel mio stile non sarebbe accettata però non mi va neanche di farlo nel vostro tipo mo l'ha fatto e chiede scusa per l'arroganza perché sembra arrogante il non abbassarsi a quel livello di diplomazia che c'è nell'area di politicamente corretto che c'è nell'area mantenere il suo il suo stile sembra arrogante adesso però quasi come per spiegare perché lo fa leggenda è una leggenda sulla traccia infatti ho letto pure commenti di gente che si lamentava del fatto che lui mantenesse questo suo stile crudo anche in questa situazione di emergenza ma secondo me secondo me ci sta anche semplicemente un po' stupido aspettarsi qualcosa di diverso se qualcuno lo segue lo ha sempre seguito anche perché non è che su Instagram c'è Fabrizio Tarducci e non è che in generale fa le storie come come persona di 40 di quanti di 43 anni che fa la spesa queste robe qui lui butta le sue canzoni fa le sue robe è un artista anche questo freestyle è l'artista non è non è la persona è leggenda sulla traccia quindi leggenda non è la persona è l'artista poi infatti tolgo la mascherina per sputarti in faccia e quella ti può sembrare un pochino perché va bene perché non lo fa sul serio esatto perché lo fa nel è come se fosse un film e lui fosse l'attore lo fa nella finzione del suo racconto è legittima difesa fra ennesimo riferimento politico mi sa ah giusto scusa è legittima difesa ok 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 legittima difesa fra perché vuol dire che mi stai proprio rompendo il cazzo quasi a uccidermi a rompermi quei giornali poi quando fa queste robe alla fine alla fine ti fa ridere da un lato ma dall'altro se lo critichi per caso viene in mente che dovresti criticare tutto quel tipo di politica, usa un po' le cose no mi sono perso usa un po' i temi sensibili per alimentare la discussione secondo me ovviamente tutti sono contrari al tolgo la mascherina per sputarti in faccia in questo momento qui ma quanti sono contrari alla legittima difesa mi sembra un po' un mescolare dei temi sensibili per far rendere conto alle persone che effettivamente sono temi complessi se prendi una posizione in un secondo finisce abbastanza velocemente che ti ritrovi ai limiti del paradossale oppure che ti contraddici da solo cos'è più importante? questo? mi sembra un po' mettere queste robe sul tavolo per mostrare la loro complessità giustamente fa anche ridere però perché di fronte all'assurdo ci mettiamo a ridere senti sta roba qua ti lascia a terra con più tagli della sanità che cosa? il suo rap immagino? sì? forse? si ti lascia a terra con più tagli della sanità è proprio critica ok critica dire a Carlo Stato ok appunto in tutti questi anni hanno sempre fatto tantissimi tagli alla sanità giustamente ho letto che appunto ci troviamo tanto in queste situazioni in Italia perché appunto anche per via di questi tagli che sono sempre stati fatti più alla sanità che altro dove magari era meno indispensabile esatto poi altrimenti non è che ci vedo tanta metafisica in queste frasi sogno la tua gang in terapia intensiva ah dice subito scherzo buona quarantena a tutti a Fabri Fibra bombastro sogno comunque già mette le mani avanti e lo scherzo dopo ancora e ci sta buona quarantena a tutti da Fabri Fibra comunque non lo so credo che alla fine lui ripete spesso Fabri Fibra forse è un po' per lui ma io lo prendo molto sul serio anche quando lo ascolto e mi aiuta a ricordarmi che non è una persona è un personaggio è Fabri Fibra adesso in questo freestyle noi conosciamo quello quindi la persona da criticare è un po' stupido è così stupido criticare un personaggio come se fosse una persona così come sarebbe criticare un'azienda come se fosse una persona o un film come se fosse una persona non si può è un po' stupido è un po' stupido che c'è un po' stupido